ci siamo ragazzi accettiamo let's go let's go cerchiamo di persificarlo grazie thank you e banniamo pike è un incubo quando siamo xerat è un incubo pike curioso bann su nafiri comprensibile il bann di sciacco e via timo questi sono i bann il nemico first pick a mumu noi first pickiamo xerat di tutta risposta voglio andare verde questo giro andiamo verdi pigliamo organa il support nemico accompagnato da caitlin noi invece siamo xerat la nostra mid laner pick a vex senza sapere quale possa essere il mid laner nemico effettivamente ha bannato fizz cosa può piccare c'è un ragionamento dietro vex ok abbiamo brand giungla e molto power si è usato bene ok hanno piccato vegar che potrebbe contrastare vex grazie alla sua barriera le dipende un po' dalle giocate di vex shen nella top line nemica allora riorganizziamo le cose il team nemico è formato da shen amumu vegar caitlin e morgana noi siamo composti da trundle brand vex ezreal xerat ora mi tolgo il giubbotto che so già che c'è da sudare lo so me lo sento nelle ossa di xerat un dos tresse vediamo un po' che ci dice blitz ho fatto un po' un po' cattolo gli ho aspettato un attimo arcivesco vizzando gli arcivesco eccoci qui perfetto allora come sono le cose caitlin sembra buona morgana un po' meno il nostro ezreal sembra buono e anche noi lo siamo perché siamo noi vegar sembra un po' e la nostra vex sembra un po' sfortunella a mumu sembra lo sappia usare e anche brand trundle sembra sfortunello e di shane non se ne sa nulla queste sono le informazioni che abbiamo di questo match let's go let's go dobbiamo arrivare prima di loro devo capire se si infila morgana nel cespuglio se vuole tirare il suo cc della vita niente cc della vita momenti di suspense suspense nessuno nessuno e lo dice ballando ok inizio chill nessuno ha provato a fare un centimetro di avanzamento ha un nome molto strano questo brand quasi da cantino divertiti bene me lo dovevo anche io aspettare solo che non pensavo lo facesse davvero male doppia moneta brutto trade iniziale stiamo dietro i minion per evitare le mosse superbe di morgana non voglio beccargli i minion ok abbiamo fatto evitare la questione non riesce a evitare le q di morgana ragazzi il nostro di carry è problematica la cosa perfetto ah così guarda te la farò io anche se la potevo lasciare ok cosa è successo qui minchia era quasi morto peccato ehi ha fottuto tutta la cosa purtroppo è il rischio di fare questi granchi iniziali e ci facciamo una placca io me ne sto andando non è una finta non so se pensavo fosse una finta posso tornare bello fresco mentre che la wave si scontra mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia no flash bravo meno male queste camini non possono vincarmi ma mumu potrebbe non lo so forse se ne è andato per una questione di fretta io me ne sarei andato avrei fatto tipo il giro per farli intimorire così un po' come ha fatto ho infatti andato un mese ok non mi ha fatto manco l'acqua ok va bene abbiamo fatto mettere il flash ragionato ma non distrutto non mi scattare il gioco presa presa ok ok semplice questo non è bello va bene posso recollare un buon scambio di kill dato che questa è la presa Zrial e questa è la presa Morgana e mentre godiamoci lo spettacolo della top no non c'è spettacolo che tenga di un drago wow brava brava così che ti voglio mamma mia incazzata oh merda che predict che predict chiudiamogli pure la trappola eh senti Zrial tu stai rischiando forte spaccato non c'avevo le skill da lanciargli per arrivare qualcuno di cattivo guarda mamma mia guarda che spettacolo eh tu rischiami con mio perfetto andiamo ce l'avrà lo smile si ok minchia che disastro la top ragazzi ritogliermi le pozioni per pigliare questo questo e si parte mi avvenciamo il trade se facciamo così eh ho sbagliato ok di una cazzata a schivare a Morgana ok ok è flesciato Ok Speriamo questa guardia Ne mettiamo una nostra Ma facciamo pigliarci un'attacca Una commessa di schiamo insomma Mi sfugge il nome Oh almeno a Mumu l'ho fatto sparire Che è il jungler L'Achille se l'è pigliata Morgana E via Direi Ward ragazzi L'ho fatto sparire Una pedina più Come si dice Più minacciosa E l'Achille non l'ha presa Caitlyn l'importante è quello Bravo Togliamo la trappola qui Tanto a chi se ne frega Togliamo la trappola Mannaggia La corazza delle torri cadrà presto Vadi 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 Ciao sono morto anche io qui Poco ci posso fare purtroppo Poco c'è Poco c'è ok dai su devo utilizzare la modalità ultra istinto ragazzi cerchiamo di proteggerlo questo qua che non riesce a schivare Morgana per qualche motivo noi teniamo duro qui ragazzi bene benissimo andiamo per il drago ok possiamo andare di nuovo per il drago perfetto andiamo via perfetto let's go belli incazzati ragazzi andiamo belli incazzati perché zoriola è lì perché non si schiva una cazzo di dq wow ciao ok ok perfetto andiamo a farci questo non bello serve il jungler qui ragazzi sono io il jungler devo andare alla svelta devo correre mamma mia grosso andiamo allora qui però dovrebbero proteggere la bot e allora me ne vado e ci ho provato a aiutarti andiamo a mid eh non bello quello che è successo raga oh l'hai capito oh un allerato è stato ucciso ma non distrutto mio dio vorrei un punto conveniente dove mollare il l'occhio del messaggero l'occhio del messaggio perfetto vai demoliamolo ragazzi perfetto perfetto ragazzi stiamo conducendo stiamo conducendo il match benissimo benissimo facchiamo l'inibitore poi andiamo qui al baron perfetto per fare il baron è un casino qui no 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 non doveva let's go velocissimi dai brand per favore capisci che di andare in al baron se ci facciamo il baron lo chiudiamo ragazzi è fatta devo solo rimanere vivo c'è una quantità grossissima di danni ok non bello non bello male 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 ragazzi reds real bello vivo ce la può fare grande un po' intatta ma abbiamo dato abbiamo fatto quello che potevamo fare questo passo non lo so se ce la farò nel mentre si stanno un po' spacchettando la base ma hanno un po' di problemi i minion giustamente shen ne punta su di me il baron se fosse stato fatto quando andava fatto saremmo andato tutto perfetto probabilmente dove stia andando tutto quello da solo bene me lo aspettavo che era nell'erbetto trundle non doveva morire ci serviva ha reso sto match più complicato di quello che doveva essere perfetto perfetto oh yes oh yes oh yes oh my god ma è un raga assurdo buona ora che il jungler nemico è morto che dire ce lo facciamo no non ci voglio credere oh yes meno male ne sono riuscito a uscirne eh non c'è le skill da lontano sta cosa non c'è lontano non c'è lontano non c'è lontano che ricoglionito mi stavo uscendo un'altra parola ma dobbiamo hintarla a tutti i costi sto game corriamo no c'è lontano corriamo Ci stiamo Fottendo il game A forza di fare Il day baron Veramente Surtido Ah, che farmo No, spacchiamogli la base Ma mi sono rotto il cazzo Eh, tre ore a sto cazzo di baron Mi sono rotto il cazzo io Di più non si faceva fare Speri e le uccisioni Come te lutto Il mondo può crollare Ma io esisterò sempre Ok Ok Ma Morgana ha usato davvero quella storia Potemi buttare una pink Dal drago Andiamo da questa parte Perfetto Lo stiamo annichilendo Questo vegar Perfetto Doppia uccisione Carneficina Ragazzi Siamo riusciti a carriare Un match Che pareva impossibile Con questi compagni di squadra Che ve ne pare Che ve ne pare Oh iuia Questo game Mi ha fatto venire Mal di schiena Devo essere onesto Che è succede Si è tutta Glicciata la grafica Ah si La maestria Di Xerat Onoriamo Vex Ma l'unica Che non è stata tossica S più Ragazzi Abbiamo fatto un game Eccellente E ci meritiamo La gustosa Prelibatezza Di 20PL In bronzo 4 Mi pare Più che bilanciato No Vabbè Festeggiamo Perché abbiamo fatto Un game Super bellissimo Più o meno Tolti gli errori Tolti le coup Prese in bocca A Xerat Bah It's real E ci apriamo Una capsula Prime Gaming Che ci darà Questo che non mi interessa Un campione permanente Casuale Che non mi interessa La serie che non mi interessa Non sono un grande fan Per la serie Ivern Che palle Che palle Andiamo al sodo Le cose belle Wukong Tryndamere Dai E' già bello 200 senza arancioni Un boss che non mi serve Rise Guardiano delle sabbie Aspetto permanente Epico Minchia è bella questa Anche se non la uso Rise È bella Mi piace Legend never rise E attenzione Lume Kanmei fiore spirituo Spiritoso Del 2020 E lo sblocchiamo Anche questo Un sacco di ricompensine Vediamo che cos'è Vabbè grazie 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 a tutti